Eh amici oggi insegniamo a Shai Mè a dire Mè Come tipo le pecore Quello fanno Bè Pur il verso degli animali lo dobbiamo insegnare Come fa il cane Io non ho capito, cioè voi Mè lo usate per qualsiasi cosa Cioè in che senso, cioè tipo Mè significa Allora Però ha tanti significati Tipo se io faccio così Mè Che significa? Significa buono ma non troppo Aspetta vediamo, tu prova a farmi una domanda Io ti devo rispondere con un Mè Come stai oggi? Mè Sto imparando Devi iniziare un ragionamento Eh Come inizi? Mè Oggi Non è l'intonazione giusta Ah ok Mè Ah ok Allora stamattina mi sono alzata Ho mangiato un cornetto Che Mè 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 amici abbiamo cambiato posizione La lieva sta superando È morta Un attimo No ragazzi Questo è proprio il bello della diretta Alzati E chiedimi come sto Come stai? Mè 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 Mè